In questa palestra vuota nel comune di Martellago i ragazzi si allenavano e si sfidavano a calcio. Siamo negli spazi utilizzati da Formedabili, associazione che promuove lo sport inclusivo per persone con disabilità cognitiva relazionale. Paola Banovas è presidente e mamma del capitano della squadra dei più piccoli. Questi ragazzi di solito hanno poche possibilità di relazionarsi tra pari, spesso è tutto condensato nel tempo scuola. Quando crescono poi il tempo a scuola viene a mancare e quindi la relazione tra pari diventa sempre più difficile da trovare. Lo sport di squadra dà senso di appartenenza e aiuta l'integrazione in un contesto diverso da quello familiare. Ma con il Covid tutto si è fermato. Questo stop soprattutto delle attività extrascolastiche e quindi la possibilità di muoversi ha creato molto più riaquitezza, ha aumentato l'incapacità di tollerare i gradi di frustrazione. Il DPCM in vigore consente l'attività motore individuale all'aperto, ma sospende lo sport dei dilettanti. Si possono allenare solo gli agonisti, una piccola parte di chi fa abitualmente attività fisica. Vuol dire che noi abbiamo circa un milione di persone, dai bambini agli anziani, che sono fermi. Non si muovono e non hanno occasione di socialità. L'ISP, Unione Italiana Sport per Tutti, chiede protocolli rigidi per ripartire. Ci sono tre valori che portano alla scuola che sono fondamentali, che sono l'aspetto educativo, l'aspetto sociale e l'aspetto legato alla salute e al benessere delle persone.